Amici di Borsa ben ritrovati sono Anthony Formulari, GVD, applichiamo metodo family live. Alla mia sinistra i titoli evidenziati in blu sono quelli che abbiamo in portafoglio. L'indice SP500 è ancora in una fase positiva. Andiamo ad applicare il sistema che significa dobbiamo verificare se un titolo scambia sempre sopra il prezzo medio volumetrico, se non presenta anomalie di volatilità e qualora queste due condizioni dovessero essere vere si vende il titolo e si compra un altro. Si compra un altro fino a quando l'SP500 è in una fase positiva. Qualcuno dovesse essere negativa si vende il titolo e basta. Un altro motivo per il quale possiamo ruotare il portafoglio, quindi ruotare un'azione con un'altra, fare quindi una ruotazione di portafoglio, è se un titolo supera una soglia limite, che nel mio caso è del 20%, sto lavorando sull'SP500, sono circa 500 azioni, quindi 100. Se un titolo supera la centesima posizione in classifica, allora lo ruoto con un altro più forte. Quindi cominciamo, Devon Energy non presenta anomalie di volatilità, scambia sempre sopra il prezzo medio volumetrico, 10 pezzi, 7 pezzi, oggi è anche la settimana di gestione del rischio, direi di lasciar correre. Ford, va bene così, 20, 17, 82, lasciamo. APA Corporation, va bene così, Xilinx, Diamondback, NVIDIA Corporation, scambia sempre sopra, non presenta anomalie. Marathon, 25, 21, direi di attendere un'altra settimana. Advanced, 3 pezzi, 2 pezzi, scambia sempre sopra. Dollar, 3 pezzi, 3 pezzi, scambia sopra. CF, Industries, CF, Industries, 6 pezzi, 6 pezzi, scambia sempre sopra il prezzo medio volumetrico, andiamo avanti. Live Nation, dobbiamo far nulla. EOG, va bene così. Conoco Philips, 8 pezzi, 6 pezzi, va bene così. Low, 3 pezzi, 2,70, scambia sopra, va bene così la manteniamo. Old Dominion, 2 pezzi, 1,50, scambia sempre sopra, non presenta anomalie. Coterra Energy, va bene. Pioneer, anche Etsy, chiude sopra il prezzo medio volumetrico, questa è la chiusura di mercoledì 15 dicembre, quindi possiamo attendere un'altra settimana. Qualora dovesse scambiare sotto il prezzo medio volumetrico, allora ruotiamo questa azione. Intuit, va bene così. Comedica, 7 pezzi, 5,8, scambia sopra, non presenta anomalie. Thermo Fisher, va bene così. Verisk, Zeons, va bene così. Andiamo avanti. Cadence, 4 pezzi, 2,50, direi di lasciare ancora stare. Albermar, un pezzo, un pezzo, schiude sopra, quindi ancora non scambia sotto il prezzo medio volumetrico, quindi siamo tranquilli e attendiamo la prossima settimana. La centesima posizione, la centesima azione ha un valore di 30,33. Andiamo a rotondare a 31 per stare un po' più tranquilli e andiamo a vedere se ci sono azioni che scambiano oltre la centesima posizione. E in caso le ruotiamo. Robert Half, questa è la prima azione che scambia sotto, che scambia oltre la centesima posizione, quindi la dobbiamo vendere. Eliminiamo il colore, andiamo su monolithic power, dobbiamo vendere anche questa. Eliminiamo il colore perché non fa più parte del nostro portafoglio. Quanta services. Andiamo a chiuderla anche ed è la terza, Dexcom, chiudiamo ed è la quarta azione che abbiamo venduto. Non ce ne sono più, quindi torniamo. Abbiamo venduto quattro azioni, quindi dobbiamo ruotarle con altre quattro più forti, cominciando dalla prima azione più forte che non abbiamo in portafoglio. Per sapere, quella che non abbiamo è molto semplice, non è evidenziata di blu. Quindi Tesla, la prima azione più forte e non posseduta in portafoglio. 0,28 non possiamo permettercela. Alista Networks, presenta un'anomalia, quindi non possiamo permettercela. Anche questa, Enfas Energy, presenta un'anomalia negli ultimi cento periodi. Andiamo a verificare meglio, sì. E quindi non possiamo permettercela. HomeZepot, non presenta un'anomalia negli ultimi cento giorni. Abbiamo un po' di liquidità, quindi direi di arrotondare a due e di comprare due pezzi di HomeZepot. Benissimo. Evidenziamo in blu. Andiamo su SVB. 0,62 non possiamo permettercela. TerraDyne, tre pezzi, non presenta anomalie. E questa sarà la seconda azione ruotata. Evidenziamo in blu. Poi andiamo su Chevron. Non presenta anomalie, sei pezzi. Andiamo a comprare sei pezzi di Chevron. E questa è la terza azione ruotata. E andiamo a ruotare l'ultima. Simon, tre pezzi, scambia sopra il prezzo medio volumetrico. Non presenta anomalie. E quindi andiamo a comprare Simon. Andiamo a evidenziare la posizione in blu. E abbiamo ruotato quattro azioni. Dexcom, Roberts Half, Monolithic Power e Quanta Services. Questo è il guadagno latente. Questo è ancora un po' di liquidità che abbiamo, ma direi 29 azioni sono più che sufficienti. Quindi lasciamolo così. In caso, se gestite patrimoni molto molto bassi, come per esempio questo conto pilota, questo conto guida, con piccolissimi capitali di 15-20 mila euro, Allora potete, quando ruotate un'azione, magari andare in eccesso. Per esempio, se è 1,80 potete comprare due azioni. Se fosse 6,6 potete arrotondare per eccesso e ne comprate 7. Quando avete un po' di liquidità potete tranquillamente farlo in questo modo. Potete fare in questo modo per investire un po' di cash che è rimasto. Va bene, direi che anche per questa settimana è tutto. Notate sempre la semplicità con la quale si applica questo metodo. E niente, questo è il nostro portafoglio. Devon Energy è ancora l'azione più forte dell'SP500. Anche per questa settimana è tutto. Grazie per avermi ascoltato. Ci sentiamo alla prossima.